Una partita di sacrificio non 0-0 che a conti scopronosamente fatti è particolarmente prezioso? Hanno fatto una partita in condizioni non facili, di grande orgoglio ma anche di conoscenza, quindi è stata una bella domenica per noi. Possiamo dire una partita di sacrificio comunque giocata a viso aperto? Sì, è stata secondo me partita totale da parte nostra, in senso che abbiamo difeso con grande intensità, a tratti abbiamo sofferto come è giusto che sia, ma siamo stati anche molto pericolosi. Sia nel primo che nel secondo tempo, quindi ripeto in queste condizioni con tante assenze penso che i ragazzi sono stati straordinari. Abbiamo passato indenni, una trasferta molto difficile, rimaniamo imbattuti, abbiamo anche guadagnato qualche punto sull'altro avversario e quindi è stata sicuramente una domenica positiva per noi. Equo anche per quanto riguarda il conto delle azioni il risultato? Come mi scusi? Equo anche per quanto riguarda il conto delle occasioni il risultato? Ma questo è difficile dire, penso che sia stata una partita equilibrata, abbiamo avuto occasioni in tutte le due squadre, nella fine è un pareggio che ci sta. Ripeto, a me mi rende particolarmente orgoglioso questa partita perché per come l'abbiamo vissuta sia prima che durante i ragazzi meritano solo complimenti.